Ciao ragazzi, siamo Trey Sfidenss, allora ragazzi siamo Trey Sfidenss e oggi ci vedremo a questo video che si chiama Andrei Borgia, non me pare o vero? E niente comunque se vi offenderò assolutamente nessuno, non prendo in giro assolutamente nessuno, non solo me lo per scherzare? Va bene ragazzi, non ci vediamo subito, vai! Va bene, bisogna iniziare, vai! Però l'hai trovato, il coraggio Ma non me paro vero Va bene ragazzi, direi che se vuoi così vi piacere, se vuoi così vi faccio ci trovare a seconda cosa che ho fatto, assolutamente nessuno, non mi pare scherzare? Va bene ragazzi, direi che posso guardare qui il video Con questo video ci commento, ci vedete che lo trovo nella descrizione e al prossimo video Rai che lo so qui su Instagram mi ha scritto nella descrizione Ciao ragazzi! Ora è arrivato il momento del taglio dei capelli